Benvenuti al tutorial dell'Università UAU di Venezia sulla pre-iscrizione al corso di laurea triennale in Design della Moda e Arti Multimediali. Questo tutorial vi mostrerà come completare la procedura di pre-iscrizione sul portale SPIN dell'Università. La pre-iscrizione è la prima fase di iscrizione all'Università. Completando questa procedura potrai sostenere il test d'ingresso. Avrai bisogno del tuo account personale dello sportello Internet. Se non ti sei ancora registrato, guarda il video tutorial su come registrarsi allo sportello Internet dell'Università UAU di Venezia. Attraverso questo link potrai accedere al portale e pre-iscriverti. Accedi al tuo profilo personale dello sportello Internet. Inserisci la tua username e password ottenute precedentemente durante la registrazione. Ora ti comparirà il riepilogo con i tuoi dati personali. Dal menu in alto a destra, clicca su Segreteria e poi la voce Pre-iscrizione. Ti verrà proposto un riepilogo dei dati che dovrai andare ad inserire. Vai in fondo alla pagina e clicca su Iscrizione con corsi. Qui dovrai scegliere la tipologia del corso al quale desideri iscriverti. In questo caso, Corso di laurea. Clicca poi su Avanti. Scegli il corso di laurea in Design della moda e Arti multimediali. Clicca poi su Avanti. Indica a quale dei tre curriculum vuoi iscriverti. Tieni in mente che sono tre corsi diversi. Puoi effettuare la prescrizione per Arti multimediali, per Comunicazione in nuovi media della moda, oppure per Design della moda. Se desideri fare la prescrizione e provare il test d'ingresso per più di un curriculum, allora dovrai presentare delle prescrizioni diverse per ogni curriculum al quale desideri iscriverti. In questa fase dovrai inserire i dati relativi al documento d'identità. Se hai già effettuato il caricamento dei dati della tua carta d'identità e il documento è ancora valido, clicca su Prosegui. Diversamente, clicca Inserisci nuovo documento d'identità, inserisci i dati del tuo documento d'identità e conferma i dati inseriti cliccando su Avanti. Controlla che tutti i dati siano corretti e clicca su Avanti. È inoltre possibile visualizzare i dati inseriti e modificarli cliccando sull'icono della lente di ingrandimento, altrimenti puoi anche cancellarli cliccando sull'icono del cestino. Prosegui con la prescrizione. In questa schermata dovrai inserire, scegliendo dal menu a tendina, la categoria amministrativa. Categoria senza posti riservati, per gli studenti e le studentesse comunitari e non comunitari regolarmente residenti in Italia. Extra comunitari, per gli studenti e le studentesse non comunitari residenti all'estero. e infine progetto Marco Polo. Potrai inoltre indicare se sei portatore di handicap o se sei affetto da disturbi specifici di apprendimento e se richiede degli ausili per lo svolgimento della prova di ammissione. Se indicherai di sì, nella schermata successiva ti verranno proposti i tipi di ausili possibili. Ricorda che dovrai poi allegare anche la certificazione medica. Viene visualizzata quindi una pagina riepilevativa dei dati inseriti da verificare attentamente. Se è tutto corretto, clicca su Conferma. In caso contrario, clicca su Indietro per eseguire le modifiche. Controlla soprattutto attentamente che l'indirizzo scelto sia quello corretto. Ora è necessario indicare il titolo posseduto. Clicca quindi sul bottone Inserisci. Indica se il titolo sarà conseguito o è stato conseguito in Italia o all'estero e clicca su Procedi. Seleziona la provincia, il comune e scrivi parte del nome del tuo istituto. Cliccando su Cerca istituto, in fondo alla pagina ti comparirà l'elenco delle scuole che rispecchiano le voci inserite nella tua ricerca. Seleziona la tua scuola e clicca su Procedi. Ora indica i dati del tuo titolo. Seleziona innanzitutto se il titolo è stato conseguito o è da conseguire. Se non è stato ancora conseguito, dovrai solo indicare il tipo di maturità e l'anno di conseguimento. Se invece il titolo è già stato conseguito, inoltre dovrai indicare la data specifica di conseguimento e il voto ottenuto. Clicca poi su Procedi. Se devi modificare o cancellare i dati appena inseriti, clicca sull'icona della lente di ingrandimento del cestino, altrimenti prosegui. Dovrai ora procedere con l'inserimento dei allegati richiesti dal bando di ammissione. Quelli indicati nell'elenco col numero 1 sono obbligatori da inserire per poter continuare con la tua prescrizione. Ricorda che gli studenti italiani, oltre alla carta di identità, devono inserire anche il codice fiscale. Seleziona la voce Sì per procedere ad allegare i documenti e clicca su Avanti. Dal menu a tendina potrai scegliere il documento da allegare. Scrivi il nome e scegli dal tuo PC il file da allegare. Una volta che il file sarà caricato, clicca su Avanti. Il sistema ti riporterà poi alla pagina precedente, dove dovrai cliccare nuovamente Sì e continuare con il caricamento degli altri allegati. Ricordati che se sei portatore di handicap o sei affetto da disturbi specifici di apprendimento, dovrai allegare anche il certificato medico in questa fase. Una volta terminato di caricare tutti gli allegati richiesti, clicca su No e poi Avanti. Il sistema ti proporrà un elenco con tutti i documenti allegati. Se è tutto corretto, clicca su Avanti, altrimenti Indietro, per inserire altri documenti, modificare o cancellare quelli già inseriti. A questo punto ti verrà proposto un riepilogo relativo al concorso scelto. Se è tutto corretto, clicca su Completa ammissione al concorso. Se desideri modificare qualcosa, clicca Indietro. Fai attenzione a che il corso di laurea, ma soprattutto l'indirizzo, siano quelli corretti prima di procedere con la conferma dell'iscrizione. Hai completato la tua prescrizione. Potrai stampare la domanda di prescrizione cliccando su Stampa domanda di ammissione. Ricordati che è importante che stampi e salvi la domanda di prescrizione in quanto riporta in calcio il tuo numero di prescrizione, la prematricola. La graduatoria sarà formulata infatti utilizzando il numero di prescrizione e non il tuo nome e cognome. Tornando al riepilogo della tua prescrizione, dovrai ora procedere al pagamento del contributo di prescrizione. Clicca sulla voce Pagamenti. Cliccando sul numero di fattura potrai procedere al pagamento. Se vuoi pagare online, ti basterà cliccare su Pago Pa. Invece, se preferisci pagare di persona, puoi stampare l'avviso di pagamento e troverai l'istruzione per procedere con i diversi tipi di pagamento. Ricorda di conservare con cura la domanda di prescrizione in quanto riporta il numero di prematricola e la ricevuta del pagamento della tasse di prescrizione. Come ho menzionato prima, la graduatoria sarà formulata utilizzando il numero di prematricola e non il nome e cognome degli studenti. Per integrazioni o correzioni alla prescrizione, contatta info.immatricolazioni.io.it Grazie per l'attenzione.